Benvenuti a Sky TG24 Economia, autunno caldissimo è il titolo della nostra puntata, abbiamo presto preso le parole a prestito dal Vice Premier Di Maio che ha detto, come già aveva detto l'altro Vice Premier Salvini e il Sottosegretario Giorgetti, che a settembre con l'autunno il rischio è che i mercati vengano a bussare al nostro spread facendolo crescere ulteriormente. Intanto altri spread stanno peggiorando perché la differenza fra quanto paghiamo di interesse sui nostri decennali e anche quelli spagnoli si allarga, idem Portogallo e la Grecia, che sta ancora messa peggio di noi, si avvicina. Parleremo di questo, non solo di questo, con Federico Dincà, deputato del Movimento 5 Stelle, in collegamento con noi da Roma, ben trovato. Buonasera a voi tutti, grazie per l'invito. E qua a Milano con noi, deputato del Partito Democratico, Mattia Mor. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, prima di tutto però Dincà, vengo da lei perché Toninelli ha appena finito di parlare alle commissioni riunite Camere Senato. L'ipotesi nazionalizzazione delle concessioni autostradali, a suo parere, è una cosa che rimane in campo, nel senso è possibile o la possiamo escludere nella sua, diciamo, interezza nazionalizzare tutte le autostrade, le concessioni autostradali italiane? Il Ministro Dottolinelli ha fatto un intervento di un'ora e trenta in commissione per la sua audizione, un intervento molto chiaro, spiegando effettivamente l'attuale situazione delle concessioni nel nostro Paese e tra l'altro, insomma, oltre, diciamo, alla desecretazione di quello fatto per l'Italia, del concessionario oggi, lui vorrà portare avanti nelle prossime settimane la totale, diciamo, trasparenza sulle concessioni nel nostro Paese. Ma prima di tutto occorre ricordare che Genova ha avuto 43 morti su un ponte che è crollato in maniera terribile in una giornata di agosto con delle persone all'interno che avevano una vita normale, una vita come tutti noi, a queste persone va data giustizia e dobbiamo ricordare che è un Paese questo che ha delle problemi enormi di manutenzione su tutto l'aspetto autostradale, sull'aspetto stradale, su tutto quello che riguarda le grandi opere, ricordo a tutti che probabilmente questa è la più grande opera pubblica da fare nei prossimi 20-25 anni, un'opera probabilmente, diciamo, di basso impatto comunicativo, non è una cattedrale nel deserto, ma è un'opera di manutenzione straordinaria del nostro Paese che dobbiamo fare assolutamente. In vista di questo, appunto, Toninelli, oltre a valutare questo piano per le manutenzioni, oggi ha voluto anche descrivere, diciamo, quella che è la situazione delle concessioni nel nostro Paese. Abbiamo concessioni su 6.000 km di autostrade nel nostro Paese, abbiamo, diciamo, i pedaggi per chilometro più alti d'Europa, abbiamo 800.000 euro di pedaggi su, diciamo, delle strutture autostradali che sono completamente ammortizzate ormai dal lungo periodo. Inoltre, diciamo, il totale del valore delle manutenzioni che i concessionari dovevano mettere in pratica e che sono stati da 2 miliardi nel 2008 a 950 milioni nel 2017, in verità dovevano aumentare, dovevano essere 25 miliardi e mezzo, in realtà le manutenzioni sono state di 16 miliardi e mezzo, quindi il 34% del valore di manutenzioni in meno su le autostrade del nostro Paese. E questo spiega, diciamo, probabilmente la scassa qualità, diciamo, delle strutture di aree nel nostro Paese. Però, Vincar, vi ho lasciato dire perché è tutto molto interessante, però rispondo alla mia domanda. Secondo lei... La possibilità sono due, sono due. O possiamo andare verso una rinazionalizzazione o diversamente vogliamo che si possa trattare in maniera completamente diversa alcuni concessionari e avere una gestione diversa, diciamo, dei rapporti di manutenzione e degli investimenti sulla rete autostradale del nostro Paese. Grazie. Mor, è stato un errore, a suo parere, pensare alle concessioni così come sono adesso? Guardi, innanzitutto mi faccia cominciare dicendo che io ho vissuto metà della mia vita a Genova, nel senso che quindi essendo genovese, pur essendo eletto a Milano, questa tragedia mi ha toccato doppiamente. E per noi quindi è fondamentale che si capiscono di chi sono le responsabilità, laddove ci sono le responsabilità queste vengano punite, vengano sanzionate e quindi vengano affrontate in maniera seria. Quello che è stato fatto sinora è stato più che altro un continuo spot da parte del Governo con delle sparate che serie non sono sembrate. Noi abbiamo fatto una proposta molto concreta che io oggi ho lanciato sulla stampa, che è quella di creare a Genova una zona economica speciale, quindi utilizzando una legge del Governo Gentiloni per la creazione appunto di facilitazioni fiscali laddove ci siano delle aree di crisi, dove ci siano dei sistemi portuali e questa è la proposta concreta del Partito Democratico per aiutare la città in anni in cui davanti ci saranno sicuramente una riduzione, un po' come quella c'è a Trieste, in anni in cui ci sarà una riduzione del traffico economico volentolente per quello che è successo col ponte. In merito a quella sua domanda, le privatizzazioni sono avvenute negli anni 90 in un altro tipo di contesto, sicuramente, a meno degli errori probabilmente sono anche stati fatti da chi ha gestito questa cosa, ma non spetta a me giudicarlo in questo senso. È ovvio che se c'è un operatore privato che ha ottenuto degli eccessivi vantaggi, questo andrà eventualmente ridiscusso, però ci sono dei contratti in ballo, se rinazionalizzare in questo momento vorrebbe dire a quanto si legge andare a pagare per lo Stato delle cifre mostruosamente ingenti, tali per cui non è detto che noi riusciamo a pagare appunto in 42 anni quel costo di una rinazionalizzazione. Quindi non è un accertamento, una difesa del concessionario autostrade, ma è un atto di pragmatismo, capire dove sono le responsabilità, non proporre delle soluzioni invece che potrebbero essere più dannose che altro. In un sistema economico maturo e complesso il lavoro di uno Stato è quello di fare delle regole e farle rispettare, non è quello di fare l'imprenditore e andare a sostituirsi al privato laddove il pubblico stesso ha dimostrato più volte inefficienza rispetto ad efficienza. Allora, prima di andare alle borse e riprendere a parlare di spread, come abbiamo anche attitolato oggi, volevo però ritornare da lei, Dinka, perché questa idea della zona economica speciale potrebbe essere l'occasione per fare qualcosa di bipartisan, questa è una delle legislature in cui è più difficile immaginare facciate cose tutte insieme. Guardi, per il bene di Genova si possono fare mille cose diverse, ma prima di tutto occorre dare giustizia alle persone che hanno perso la vita tra le macerie di quel ponte. E ripeto, una delle cause principali è anche il fatto che non si è riuscito nel corso del tempo ad avere quella famosa agenzia ispettiva che doveva andare a poter verificare nel corso del tempo le problematiche di tutta la rete autostradale del nostro Paese, cosa che non è stata mai fatta nel corso del tempo e che è stata nel 2012 poi chiusa definitivamente e passata all'interno del Ministro. O sareste contro? Io ho detto semplicemente, mi scusi soltanto una cosa, l'agenzia per l'ispezione era fondamentale per poter capire le problematiche sull'intero assetto autostradale del nostro Paese. Però non c'è stata ed è un errore, è una cosa su cui bisognerà rimediare, è chiaro. Che all'interno degli ultimi cinque anni, all'interno del Ministero, non ha avuto quella forza propulsiva di poter essere portata avanti e quindi di avere una gestione indipendente per capire le problematiche all'interno del sistema autostradale del nostro Paese. Queste cose non sono mai state fatte nel nostro Paese. Poi possiamo parlare di tutte quante le aree portuali. Lei fa lunghissime premesse, tutte cose molto interessanti, ma elude in parte la nostra domanda. No, non sto dicendo ben niente. Sto dicendo che oggi giorno le cose possono essere prese in considerazione per il bene di Genova. Sto dicendo che però, se dimentichiamo il passato e le cose che non sono mai state fatte, dimentichiamo l'importanza di poter avere delle agenzie ispettive nel nostro Paese che devono scovare chi si comporta... Quindi lei dice che prima di tutto bisogna fare queste agenzie, prima di pensare anche alla zona economica speciale. Sul fatto che ci sia un'agenzia ispettiva possiamo anche essere d'accordo, però vorrei capire se i 5 Stelle possono essere d'accordo di fare questa azione, questa attività per Genova e anche per le future aree di crisi che ci saranno nel nostro Paese. Non lo deve firmare lei, non lo deve firmare qua. La domanda è solo se è un'ipotesi percorribile o meno. Tutte le ipotesi possono essere verificabili, gliel'ho appena detto, però di fatto in questo momento secondo me occorre dare giustizia a quello che è successo a Genova, per cui andare in fondo nella ricerca di chi sono i veri colpevoli, altrimenti sembra che tutte le cose che vengono fatte siano per nascondere il passato e il crimine disastroso che è successo a Genova. Dinka, perché secondo lei i mercati hanno paura dell'Italia? Siamo vittime di un complotto come dicono alcuni suoi colleghi o stiamo facendo qualcosa a noi che preoccupa i mercati? Noi crediamo che ci sono delle valutazioni da parte dei mercati sbagliate. Il nostro Paese sicuramente è più sano di Paesi come il Portogallo, di Paesi come la Grecia e secondo me abbiamo la capacità economica sicuramente superiore anche alla Spagna stessa, per cui quello che noi vediamo è un dato che di fatto non rappresenta la valutazione del nostro Paese. Dall'altra parte noi semplicemente stiamo cercando di portare avanti delle politiche che siano politiche nei confronti delle persone, battendo anche in maniera molto forte i pugni in Europa per poter avere una valutazione maggiore della nostra capacità di essere uno dei Paesi fondatori dell'Europa e dall'altra semplicemente parliamo di portare avanti con il Ministro Tria che lo ha più volte definito tre pilastri fondamentali per quanto riguarda la prossima manovra finanziaria. Il primo è il poter avere una diminuzione delle tasse e questo per molti è inteso con la flat tax, dall'altra poter effettivamente combattere la povertà dilagante nel nostro Paese perché consideriamo 10 milioni di poveri nel nostro Paese e questo lo vogliamo fare attraverso una misura che è presente in moltissimi Paesi d'Europa, qual è appunto il reddito di cittadinanza e dall'altra parte ancora vogliamo che effettivamente i 150 miliardi che oggi sono fermi di investimenti in conto capitale nel nostro Paese possono andare a regime nel brevissimo tempo e quindi riuscire a portarli a terra subito per far sì che si procede in maniera veloce a quelle strutture a livello territoriale che possono dare benefici immediati alla nostra economia. Questi sono i tre pilastri principali, ecco perché noi valutiamo che l'attuale visione dei mercati internazionali sul nostro Paese sia di fatto sbagliata perché noi vogliamo fare cose normalissime che si fanno in un Paese come il nostro che ha assolutamente bisogno di poter avere un intervento forte in questi tre settori. Dinka, poi dopo ritorniamo da qua da Mattia Morma, le chiedo per fare tutto questo servono ovviamente dei soldi, alcuni di questi li possiamo anche fare in deficit rimanendo all'interno dei parametri di Maastricht ma arrivando molto vicini al limite massimo che è del 3%, anche se noi siamo in una traiettoria di riduzione del nostro debito pubblico, quindi il deficit è quello che si fa ogni anno, il debito è quello che abbiamo montante dalle annate passate e quindi l'Europa ci chiede sempre di non arrivarci a questo 3% ma di stare molto al di sotto, per quest'anno secondo lei invece per far ripartire l'economia sarebbe il caso di riarrivare al limite? È una delle possibilità messe in campo, quella di poter chiedere maggiore spazio, tra l'altro siamo anche il Paese che nel corso del tempo ha destinato nell'anno scorso ad esempio 4,7 miliardi di Euro per quanto riguarda l'emergenza delle immigrazioni che molti altri Paesi e l'Europa non hanno in questo momento, per cui alla fin dei conti io credo che vi siano tutte quante le possibilità per poter chiedere maggiore flessibilità all'Europa e in questa maniera poter fare quel rilancio di consumi interni, di lotta alla povertà, di gestione delle manutenzioni con il piano di manutenzione stradale per il nostro Paese che sono un tocca sano perché diventano immediatamente economia reale, aumento dei consumi ed investimenti sulle infrastrutture esistenti di cui sicuramente abbiamo bisogno e gli esempi, diciamo, servono un'accelerata né all'interno dei parametri ma non all'interno della traiettoria di riduzione del debito. Mattia Mor. Ma di aumento dei consumi, di crescita economica, delle cose straordinarie che raccontava Dincà saremmo tutti contenti se arrivassero e abbiamo bisogno tutti, è evidente che quello che innanzitutto ha ricordato all'inizio è una cosa errata, lui ha detto che noi non siamo economicamente a livello della Grecia, della Spagna e del Portogallo, certo siamo il secondo Paese industriale d'Europa, siamo molto meglio dal punto di vista dei fondamentali industriali rispetto a questi Paesi, ma i mercati non vanno a valutare la potenza industriale dell'Italia, vanno a valutare la nostra possibilità di ripagare il debito, guardano la futura e guardano più che altro allo stock enorme di debito che abbiamo, quindi il nostro spread non è un indicatore della nostro potere industriale ma è un indicatore di quello che è il rischio Paese dell'Italia e purtroppo noi ci stiamo accorgendo che quando lo spread sale e sale anche nei confronti di Paesi inferiori a noi dal punto di vista economico come appunto la Spagna, la Grecia o il Portogallo, vuol dire che viene pagata quella che è l'insicurezza politica, c'è stata un'impennata dello spread quando il governo andava formato, questa impennata dello spread è rimasta alta, non è più tornata ai livelli sostanzialmente pre-governo, prima si era a 120, 130 punti, ora siamo a 260, 280 punti, questo oltre a costare in termini di interessi maggiori per il debito pubblico italiano, è pericoloso perché se dovesse realmente aumentare il nostro Paese andrebbe sempre di più verso una difficoltà di finanziarsi e quindi di andare verso un potenziale default. Noi non abbiamo paura dello spread in quanto manovrato da poteri forti o poteri occulti che abbiano contro l'Italia o contro il governo giallo-verde o che vogliono il male dell'Italia, il male dei grillini della Lega, però prendendo lo spread come un indicatore oggettivo e questo spread è quello che poi si ribalta sui mutui delle aziende, sui mutui delle famiglie, c'è un rischio enorme nello spread che va gestito con cura, quindi quando io sento parlare di legge di bilancio in cui noi vedremo un taglio delle tasse con la flat tax, un reito di cittadinanza più investimenti pubblici, ripeto, alcune cose possiamo essere d'accordo, altre meno, ma dove sono questi soldi e se questo viene fatto completamente in deficit, aumentando il debito, temo che l'Italia possa andare invece verso una situazione ingestibile. Ricordiamo che noi abbiamo 12 miliardi e passa da mettere di sicuro per non fare scattare l'IVA, più altri 12 miliardi che servono per il normale funzionamento, dipende con quanto vogliete iniziare per quanto riguarda le meno tasse e l'aiuto alla povertà, nel senso 10 miliardi come inizio potrebbe bastare? Le cifre in questo momento sono tutte quante cifre che possono essere considerate, perché nel complesso se si fanno tutti d'amblè costano 100 miliardi. Vorrei mettere sul tavolo anche altri due punti fondamentali, il primo che si paga a livello internazionale una situazione di rallentamento dell'economia internazionale che colpisce anche il nostro Paese. Sì, ma sono usciti dati Ocse oggi, sono usciti dati Ocse per cui l'Italia è il Paese che negli ultimi trimessi è cresciuto di meno rispetto ai nostri Paesi competitor, quindi questo è un problema nostro, non degli altri. L'Italia è calata dal più 0,3 al più 0,2, laddove tutti i nostri Paesi competitor europei sono cresciuti. Vi interrompo solo per leggere un'ultima ora, Di Maio ha appena fatto battere le agenzie, unica soluzione, parla di autostrade ovviamente, è quella della nazionalizzazione. Non possiamo infatti lasciare ad autostrade, non siamo affetti dalla sindrome di Stoccolma, le altre opzioni sono due, o darle a uno degli altri due concessionari autostradali, ossia passare dalla padella alla brassia o darle agli stranieri. Su questo Dincaccio aveva già più o meno detto come la pensava il Movimento. Vorrei, avete messo in campo uno degli argomenti della puntata di oggi, cioè il fatto che questo enorme debito pubblico nel momento in cui dovesse aumentare il tasso di interesse, perché i mercati potrebbero iniziare a pensare che è più difficile che ripaghiamo il debito, potrebbe venire in aiuto magari uno Stato straniero. Era stato fatto il nome della Russia, qualche giorno fa abbiamo parlato degli Stati Uniti, ultimamente si è detto anche della Cina che il viaggio di Tria fosse stato fatto per questo, è stato lo stesso Ministro a dire che non è così. Il servizio di Simone Spine, poi ne parliamo assieme. L'Italia non va in Cina a cercare acquirenti per i propri titoli di Stato. Giovanni Tria in missione a Pechino esclude che sia a caccia di compratori del nostro debito. Non abbiamo questo problema, assicura il Ministro del Tesoro in un'intervista al quotidiano cinese Guangming tradotta da Radio China aggiungendo che gli investitori cinesi valuteranno se acquistare i bondi italiani, esattamente come faranno gli investitori di altri paesi o italiani. Il numero 1 di Via 20 Settembre è convinto che la stabilità finanziaria del nostro paese si rafforzerà nel momento in cui si concretizzerà la politica di bilancio del Governo. E in effetti quello che analisti e istituzioni attendono è proprio la manovra, la cui fisionomia prenderà corpo nelle prossime settimane. Tra misure annunciate che comporterebbero una spesa per decine di miliardi e gli oltre 20 miliardi in ogni caso necessari per mettere in sicurezza il bilancio, i mercati stanno alla finestra. I segnali che Roma sia un osservato speciale sono numerosi. Lo spread del differenziale fra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, cioè il termometro dell'affidabilità del nostro debito, viaggia da tre mesi sopra i 200 punti, coi rendimenti dei buoni del tesoro decennale intorno al 3%, un livello che non si vedeva dalla primavera del 2017. In pratica, da fine maggio, mentre era in gestazione il Governo gialloverde, lo Stato sta sborsando più soldi per garantire che gli investitori comprino i nostri bond e quindi continuano a finanziarci. Se la credibilità sul mercato diminuisce, Roma deve offrire interessi più alti e un rialzo prolungato dello spread di 100 punti comporta, secondo le stime, un esborso aggiuntivo di oltre un miliardo e mezzo il primo anno, che nel secondo salirebbe a 4,5. Non si è allargato solo lo spread con la Germania, riferimento nell'Eurozona per la solidità delle sue finanze, ma anche quello con la Spagna, i cui titoli sovrani rendono la metà dei nostri, e col Portogallo. Rimaniamo più convenienti della Grecia, che però, complice la fine del programma di aiuti internazionali, sembra riacquistare più fiducia. Insomma, il nostro paese sembra diventare meno interessante agli occhi di chi, soprattutto all'estero, ha soldi da investire. Lo confermerebbero alcuni recenti dati. Tra maggio e giugno i portafogli d'oltrealpe si sono alleggerite di 72 miliardi di obbligazioni tricolore, la maggior parte titoli di Stato. Simone Spina, Sky TG24. Siamo in chiusura. Possiamo davvero sperare in un aiuto esterno per salvarci dello spread? Quello cinese viene escluso da Tria, ma gli altri no. Insomma, sicuramente l'amministrazione americana, nelle scorse settimane, ha definito la possibilità di poter venire incontro, diciamo, un aiuto nei confronti del nostro paese nel caso si verificassero dei problemi. Ma io credo, come ha detto Punto Tria, che non vi saranno alcun problema perché sicuramente la manovra che metteremo in campo in autunno avrà tutta la credibilità per poter trovare sul mercato attuale tutta la parte finanziamenta. È chiaro che i buoni rapporti con Cina e con America danno la possibilità di poter avere le spalle coperte, anche perché di fatto sui buoni rapporti si crea anche la credibilità di un paese a livello internazionale. Dall'altra parte c'è sempre l'augurio che ci possa essere anche un ripensamento sul quanti easing, in quanto il termine in questo momento è difficile come l'attuale situazione, possa comunque modificarsi e avere un allungamento. Questo sicuramente sarebbe d'aiuto a tutta l'Europa e credo che forse una riflessione vada fatta in un momento in cui c'è, anche se prima in studio non l'avete detto, c'è un problema internazionale che si crea su delle tensioni, sui dazi che in questo momento sono comunque presenti. Sì, no, argomento che abbiamo trattato in passato e tratteremo in futuro. Mor, 20 secondi telegrafico, questo aiuto esterno la preoccupa oppure è una cosa di cui tutto sommato ci hanno già aiutato gli americani dopo la seconda guerra mondiale? Mi preoccupo a pensare che servano gli aiuti esterni per salvarci, noi dobbiamo fare i compiti a casa fatti bene, mettere una legge di bilancio che funzioni e mettere i conti in ordine. Poi se all'estero qualcuno vorrà comprare il nostro debito, come è successo in passato, ben venga. Quello di cui io ho paura è che non riusciremo a mettere in sicurezza i nostri conti. Allora, con questa nota di chiusura in cui abbiamo quasi trovato un accordo, voglio ringraziare i due deputati, Dinka e Mor per essere stati in trasmissione con noi.